Ma non c'è una strategia particolare per battere una squadra o l'altra? Non c'è una strategia particolare per guadagnare un'equipe o un'altra. I miei giocatori devono giocare specialmente quando vanno incontrare le squadre molto forti e squadre come vita che è la squadra del Congo. Surturtro quando si incontra un'equipe molto forte come vita che è il campione del Congo. Se i miei giocatori giocheranno quasi... Se i miei giocatori giochino tutti a loro livello, posso dire che possiamo fare un grande risultato. Al contrario, se avrò 4-5 giocatori che giocano al di sotto delle loro possibilità... Al contrario, se avrò 4-5 giocatori che sono in basso di loro livello... Possiamo passare un brutto pomeriggio, certo. Per questo, se ci arriva come questo, possiamo passare un po' più a midi. Sì, io credo che 30 punti in 14 partite sia, vuole dire, aver fatto bene. No, io credo che avere 30 punti su 14 match non è vero. Ma ci stiamo muovendo con la mia società e questo lo dico da parecchio tempo. Quindi, con tutta la società, siamo iniziati a cercare di rinforzare questa squadra assolutamente. Perchè il nostro obiettivo non è di fermarsi al terzo posto, ma di attaccare almeno il secondo posto. Quindi, il nostro obiettivo per il momento non è di s'arrattare alla terza, ma di battere per la terza. Non ho trovato sicuramente la squadra ai massimi livelli. No, non ho trovato l'equipe a un livello massimo. Ma abbiamo lavorato in questi giorni per poter riprendere quello che sappiamo fare noi. Ma abbiamo lavorato durante questi giorni per poter riprendere ciò che abbiamo fatto. C'è una squadra equilibrata, una squadra che è difficile da battere. Abbiamo qualche problema di organico, di giocatori. Abbiamo qualche problema su alcuni giocatori. Ma gli undici che vanno in campo mi danno ampia fiducia di quello che possono fare. Ma io ho confianto nei miei onze che vanno a cominciare il match. Grazie. Grazie.